Quali sono secondo lei gli aspetti più difficili da affrontare da un punto di vista fiscale in un processo di ristrutturazione? Ma in un processo di ristrutturazione normalmente quel che accade è che l'impresa, il nostro cliente comunque che deve affrontare la ristrutturazione è un'impresa in crisi, è un'impresa che deve in qualche modo quindi ristrutturarsi, trovare un nuovo assetto e quello che noi dobbiamo evitare naturalmente è che una situazione già aggravata dal punto di vista economico possa essere ulteriormente pregiudicata dall'incidenza tributaria imprevista, non prevedibile su situazioni che normalmente non manifestano una ricchezza, una capacità reddituale ma soltanto sostanzialmente realizzo a condizioni di mercato delle attività di impresa per cercare di salvaguardarne la sopravvivenza quindi non è effettivamente un'attività di pianificazione fiscale volta all'ottimizzazione ma è cercare naturalmente di evitare un aggravio e quindi di poter in qualche modo consentire all'impresa di sopravvivere e di superare la crisi.